Nella sera da Sarocco di Napoli Monte, il Mundialito, ottava edizione, nona giornata, a New Team e Napoli finiscono 3 a 3, bellissima battita, due migliori in campo questa sera, Marco Schisano per il Napoli, consegniamo la medaglia, e Paolo Adagio per la New Team, consegniamo la medaglia anche a lui, partiamo proprio con il portiere del Napoli, capitano, senti prestazione a tenata, alche e bassi, giocate bene a tratti, poi soffrite un po' in difesa, qualche blackout troppo, loro ne hanno approfittato, un'altra battita buttata, si poteva fare di meglio, soprattutto per lottare. Diciamo più bassi che alti, perché speriamo tantissimo, per i blackout questi sono soprattutto dovuti al fatto che non giochiamo sempre con gli stessi, purtroppo le assenze a noi ci penalizzano, diciamo che stiamo facendo un campionato sotto tono, rispetto alle premesse che abbiamo fatto le ultime dieci partite del torneo scorso, diciamo che avevamo optato di fare un torneo diverso, gli obiettivi erano diversi, invece vabbè è andata così, diciamo che questo torneo è andato così, non fa nulla, vedremo nel prossimo torneo. Però siete ancora in questo per un posto in Champions, solo che le prossime due attività le dovete vincere. Sì, ma a parte la corsa per la Champions, si dispiace solo come stiamo giocando, la forma, le prestazioni, perdiamo, buttiamo partite proprio così al vento. Stasera è stata una bella partita, loro l'hanno combattuta, è stata una bella partita fisica, però corretta, quindi nulla da togliere all'avversario. Vabbè Marco, mi fai un saluto, una dedicata speciale a qualcuno. A Genne, a Genne Sanità. O mi raccomando, la prossima che ti vuoi con l'unneria, vieni. Complimenti Marco, ci vediamo alla prossima. Passiamo a Paolo, Paolo partita, giocata abbastanza bene da voi, un po' come gli avversari, però a specchio. Quando giocavano loro bene, vi hanno fatto soffrire, poi è successo anche il contrario, equilibrata, il parigio fosse il risultato più giusto. Vabbè, una grande partita, sì, come dici tu, il parigio è un giusto risultato, poi andiamo a fare di meglio, ci aspettavamo una vittoria, però va bene così. Spero rimanere state lì in classifica. Siamo a dieci punti, ancora due giornate, speriamo di fare sei punti per qualificarci in Champions. State a quattro, quinto posto, se non sbaglio, se qualche risultato di mercoledì va a vostro favore, diciamo che forse basterà anche una sola vittoria in Parigi. Noi cerchiamo di fare sei punti, poi così ce la prendiamo. Io ho la Champions, però se sarà Europa lotteremo per la... Una puntata è la Champions. Noi puntiamo in Champions, è normale. O se non arriva, forse siete più contenti per giocare. No, 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 io gioco sempre per andare in alte classifica, però dipende dal risultato, se viene l'Europa, ci prendiamo l'Europa. Va bene Paolo, vuoi fare una dedita speciale a qualcuno? Dedico questi tre gol alla mia ragazza e tutta la mia squadra. Complimenti Paolo, ci vediamo alla prossima. Ciao.